La Procura Generale di Roma ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Assise di appello a carico di Antonio Ciontoli e dei suoi familiari, i figli in Federico e Martina e la moglie Maria Pezzillo, nel processo per la morte di Marco Vannini avvenuta dopo una lunga e drammatica agonia il 18 maggio 2015 chiedendo un nuovo processo. Il 29 gennaio scorso l'appello ha riqualificato per Antonio Ciontoli l'originale imputazione di omicidio volontario in omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e ha confermato per i suoi familiari la condanna di omicidio colposo. Il Procuratore Generale chiede quindi che la Cassazione annulli la sentenza impugnata e rinvia un'altra sezione della Corte di Assise di appello affinché sia riconosciuta la responsabilità penale in relazione al delitto di omicidio volontario per tutti gli imputati. Grazie.